Tornerà a riunirsi nei prossimi giorni il tavolo tecnico convocato da Daniele Damario e Nicola Campitelli, assessori regionali rispettivamente alle attività produttive e all'energia, dopo le numerose sollecitazioni dei sindacati e delle associazioni di categoria alla ricerca di risposte per risolvere il problema del caro energia che sta mettendo in ginocchio imprenditori e famiglie. Ristori immediati sul modello del covid al momento non ce ne sono ma la regione si è impegnata a valutare le proposte avanzate al tavolo dalle associazioni. Daniele Damario, assessore regionali alle attività produttive, la soluzione qual è? La soluzione sicuramente va cercata a livello centrale e a livello europeo. La regione Abruzzo metterà in campo quello che può mettere in campo con le rinvenienze della programmazione 14-20 ma non per dare una risposta immediata a modello fondo perduto come il covid. È evidente che la regione Abruzzo farà di tutto con la nuova programmazione 21-27 per fare dei bandi, per mettere i soldi a disposizione delle imprese e delle famiglie che si valoraranno dotare di pannelli fotovoltaici quindi per alleggerare questo problema. Se pensiamo a un fondo perduto che aiuti oggi le imprese e le famiglie è un problema talmente grande che le poche cifre che potrebbe mettere a disposizione la regione Abruzzo sarebbero irrisorie. Dal bollo auto e dagli addizionali IRAP e IRPEF che la regione ha usato in passato per ripianare i debiti sanitari si potrebbe attingere per avere ristori immediati in attesa che si concretizzino progetti a lungo termine come le comunità energetiche e i bandi per le rinnovabili. Le addizionali IRPEF e IRAP che la regione Abruzzo incazza sono già destinate per bilancio a tutte le attività che la regione mette in campo. Poi vorrei ricordare qualcuno dimentica che il caro energia colpisce per prima la regione Abruzzo. Immaginate quali sono stati linkari per il gas per riscaldare gli ospedali, per riscaldare gli uffici. Faccio un esempio banalissimo, solo per riscaldare le biblioteche la regione Abruzzo spenderà 200 mila euro l'anno in più. Se si parla di cifre fantomatiche, di addizionali fantomatiche, si soffia solo sul malcontempo ma non si fa un servizio alle imprese. Graziano Di Costanzo, direttore della CNA Abruzzo, che ha parlato di addizionali IRAP, IRPEF, di bollo auto. Che risposte vi sono state date? Nessuna, però, hanno detto che faranno una verifica. Noi riteniamo che il prossimo incontro sarebbe a partire da quello. Chiarezza sui conti, sulle risorse eventualmente a disposizione e poi tutta la seconda parte che è quella sulla prospettiva per la quale noi pensiamo a tutte le rinnovabili, al risparmio energetico, all'efficientamento, ma quello arriva dopo. Adesso l'importante è far superare la maggior parte delle imprese questo momento difficile. Marina Dolci, Presidente di Confesarcenti Pescara, soddisfatti di questo tavolo tecnico? No, non siamo soddisfatti. Avevamo già avuto un tavolo il 5 di settembre, sono passate tante settimane e purtroppo siamo ancora al punto che dobbiamo controllare se ci sono fondi. Una parte di fondi sì, li hanno trovati e ce li hanno confermati, però non vediamo un utilizzo immediato di quella cifra perché sarà destinata per il fotovoltaico. Le aziende, alcune si potranno attivare per poter fare sulle proprie strutture questo impianto fotovoltaico, ma altre piccole aziende no. Se noi contiamo ai ristoranti, i bar, i negozi, i conad di vicinato, comunque si trovano sotto dei palazzi che dovranno fare parte sicuramente della comunità della nuova energia, però ci vorrà tempo. Quindi noi chiedevamo invece un aiuto in bolletta, non una tantum. Anche nella nostra associazione abbiamo avuto già delle aziende che hanno chiuso perché purtroppo è stato un momento esagerato, invece il fatturato del lavoro è rimasto quello, quindi non c'è una prospettiva, adesso incremento il lavoro, quindi nei prossimi mesi posso pagare a rate. Si è chiuso già il cerchio purtroppo.